L'accusa pesante è stata formalizzata per i PM della procura. Si tratta di violenza sessuale, contestazione che viene mossa ad un 29enne. Il prossimo ottobre si svolgerà l'incidente probatorio disposto dal GIP su richiesta dei PM della procura. Come abbiamo riferito diverse settimane fa il giovane è ritenuto responsabile di aver abusato di una 23enne sua conoscente. A fine giugno è stata la giovane arrivata anche al pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele a denunciare i fatti. Avrebbe fornito riscontri sul luogo nei pressi della spiaggia di Montelungo. Sul posto i poliziotti che hanno avviato le indagini hanno trovato il telo che sarebbe stato usato per il rapporto sessuale. Il 29enne attualmente sotto indagine anche se non sono scattate misure cautelari. L'incidente probatorio servirà ad acquisire elementi ulteriori anzitutto sentendo la giovane. Esame ritenuto importante anche perché la stessa giovane risente di un ritardo mentale. Gli inquirenti intendono riscontrare quanto fino ad ora ricostruito. Pare si provvederà alla nomina di periti che approfondiranno la condizione della 23enne che ha spiegato di essere stata condotta a Montelungo con una scusa. In una zona piuttosto isolata si sarebbe poi verificata la violenza. Tutti aspetti che saranno valutati dal GIP a seguito dei riscontri di indagine di quanto emergerà dall'incidente probatorio.